Ciao fiocchini! Seconda parte del video su i dischi perché non ho ritrovati altri, allora ve li faccio vedere in verità perché sono un vanesio Allora, allora, partiamo con il primo cd Ah! Se non avete visto la prima parte dischi che dovete conoscere o ascoltare perché sono belli dall'inizio alla fine poi vi possono far cagare certamente ma li dovete ascoltare almeno una volta nella vita Iniziamo con l'unico cd di questa volta che l'altro lato mi sono dimenticato di farvi vedere Yes! Close to the Edge perché ha una copertina incredibile Atlantic all'interno Eh, no, non è male Questo, vabbè, ovviamente Prog ignorantissimo dall'inizio alla fine Sweet uno dei dischi base del Prog quindi ascoltatevelo e non rompete il cazzo Oh! Adesso andiamo su qualcosa di più interessante Allora Abbiamo, abbiamo Allora, anche questo disco ce l'abbiamo in più formati Oggi ho un formato nuovo che l'altro lato non vi ho fatto vedere In realtà ce l'ho anche in cd ma non so dov'è al momento Ed ovviamente Pink Floyd Wish You Were Here Qui in 33 Purtroppo non edizione originale ma comunque schifo non ci fa Copertina sempre super fica Ma non ce l'ho solo così Ce l'abbiamo anche in Vabbè, cassetta che è una copertina diversa rispetto al disco ovviamente anzi completamente diversa Infatti Non so se si vede ma c'è scritto Wish You Were Here E Stereotto Che sicuramente non sapete nemmeno che cos'è Originale Anche in questo caso Wish You Were Here Quindi Shine on your crazy diamond Welcome to the machine Wish You Were Here ovviamente Quel disco lì D'altra volta non vi ho fatto vedere nulla De Pink Floyd Ma non sarà l'ultimo Infatti abbiamo subito Ovviamente Come poteva mancare Dark Side of the Moon Quello che ha portato A un incredibile Fraintendimento Sul lato oscuro della luna Ok Che non è oscuro Nel senso che è buio Ma nel senso che non lo vediamo C'è il sole pure lì Se volete saperne di più C'è un canale di divulgazione scientifica Che vi lascio qua sotto Prodotto da me Ma non ci sono io nei video Dove parliamo anche di questa cosa Ah ne ho due Non si chiamano Ne ho due Perché è bello Lo comparto doppio Ma non è vero Perché ce l'ho anche in Fanno casino Sono bellissimi Stereotto Sempre come prima Se volete sapere che cos'è lo stereotto Ci facciamo un video magari Proprio su quello Perché è molto interessante Questo Per intenderci è Time Great Dig in the Sky Quella registrata tutta Improvvisata Diciamo Dalla cantante che ora non mi ricordo Come si chiama Money Eclipse Brain Damage Questo Imprescindibile Ma credo lo conosciate già Ah vabbè Ve l'ho fatto vedere l'altra volta Ma ho trovato il disco Finalmente Blues Brothers Ne abbiamo già parlato Ok Dei Pink Floyd Non ne abbiamo più Andiamo avanti Andiamo avanti Cosa abbiamo adesso Rimaniamo in Inghilterra Rimaniamo in Inghilterra Il più bello Potete ovviamente ascoltarveli tutti Secondo me il più bello Come disco Intero Abbey Road Beatles Ok Quello con la copertina Dove c'è Dov'è Paul McCartney con la sigaretta Piedi nudi John Lennon Che sembra un prete E George Harrison Che sembra George Harrison Ringo Stark Che come al solito Non se lo cura nessuno Comunque ovviamente Come Together Something Che è la canzone dei Beatles Più bella mai fatta Quella Perché è di George Harrison Probabilmente Di Sing Agli altri Irkans de San Ovviamente Che è un pezzo Incredibile Ma sicuramente Lo conoscete già Rimaniamo ancora in Inghilterra Sì Rimaniamo ancora in Inghilterra Le Zeppelin 2 Ma in verità solo perché Non ho le Zeppelin 4 Secondo me meritava di più Ma purtroppo non ce l'ho Le Zeppelin 2 Con ovviamente All Lotta Love Ah che bello Che ignoranza All Lotta Love Dov'è? Moby Dick Questo solo se non avete Le Zeppelin 4 Secondo me Merita di più Ma a panizze Non è importante Rimaniamo in Inghilterra Rimaniamo in Inghilterra Di Purple Machine Head In questa edizione Purtroppo Senza disco Perché non c'era Ma la copertina Era tenuta bene Quindi l'ho comprata Ovviamente Maestri Del Hard Rock Inglese Ancora in attività L'ultimo disco Che hanno fatto Tra l'altro Eppure molto fico Anche se Dei componenti originali Ci sono Ian Pace Ian Gillam Roger Glover Gli altri non ci sono più Uno è morto Purtroppo Mentre un altro È diventato Un tizio strano Ovviamente Mi riferisco a Regi Blackmore E poi vabbè Altri componenti Che sono venuti dopo Sono andati a fare altro Comunque Ovviamente Canzone preferita di Machine Head La più sconosciuta di tutte Per me È Pictures of Home Che è la terza traccia Poi c'è su Smoke on the Water Space Tracking Lazy Highway Star Praticamente Tutti Singoli Delle hit Incredibile Anche in stereo Otto Ovviamente Bellissimo Poi 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 No ecco Dicevamo Dicevamo Dei Deep Purple No Allora Dei Deep Purple Volevo fare un discorsetto Un discorsetto No perché ne ho un altro Dov'è Ah Dicevamo Dei Deep Purple Questo ce l'ho solo così In questa edizione Deep Purple In Rock Che ha una copertina Non so se si vede È incredibile Bellissima Child in Time Questo qui praticamente Se voi ascoltate Qualsiasi disco Heavy Metal Degli anni 80 Senza questo Non sarebbe mai esistito Ovviamente Speed King E Child in Time Le hit più famose Child in Time Che occupa metà disco Quindi Però purtroppo Ce l'ho solo così Ma 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 Volevo fare un discorso Perché I dischi si comprano anche Live Non solo in studio No E mi sono sempre Domandato Perché funzionano I dischi live Cioè Ascolto fatto bene No Ascolto registrato in studio Bello Vado a vederli dal vivo Bello Perché dovrei comprare Un disco che si sente male Fatto dal vivo Allora vi ho portato Credo Tre Tre album Uno ovviamente L'avete indovinato Perché è il miglior disco live Mai fatto Secondo Molte persone Non il più venduto Lo vediamo dopo Il più venduto in verità Di Purple Made in Japan Perché è bello Perché non è mai stato Rimaneggiato Vuol dire che le tracce Sono originali Non c'è nessuna Reincisione in studio Di niente Di nessuna traccia È esattamente come è stato suonato Ovviamente È selezionato E Perché questo è bello? Perché le tracce sono diverse Da Quelle presenti nel disco Stranamente Quindi Questo vabbè Lo conoscete per forza Ci hanno fatto Gli Elio e le storie tese Hanno fatto un loro live Fatto così Allora Quello è il miglior live mai fatto Made in Japan Non è di Purple Ma ce ne sono altri Che meritano Questo più che altro Per la copertina Dire Straits Alchemy Live Ovviamente Ed è effettivamente Molto bello Questo dovrei avercelo Anche in cassetta Ma non ce l'ho di qui Va che bello Consigli veloci Poi Il secondo mio live Preferito Vabbè Questo è banale Simon & Garfunkel Concert in the Central Park È stato uno dei concerti Contra l'altro più pubblico Mai fatti Ed in particolare Ovviamente A parte Le canzoni banali La mia preferita Escarboro Fair Che non so come si pronuncia Mi piace perché non la so pronunciare Quindi doppio disco Incredibile Ultimo ultimo disco Ovviamente Eagles Live In casa di chiunque Bello perché questa parte qui È in rilievo La chiusura qui della cassa Bellissimo Ce l'hanno tutti Non si può Non citare Adesso vediamo qualcosa di Questo volevo farvelo vedere L'altra volta In realtà Ma l'avevo lasciato giù Aqualong Aqualong Getrotal Ovviamente Quindi siamo sempre nel Prog Folk Poi vabbè Distinzione soprattutto Per Getrotal È sempre complessa Aqualong Ovviamente Che conoscete tutti Ma soprattutto Crossdymery Quindi Aqualong Ovviamente Non poteva mancare Poi Siamo sempre Stranieri Allora Questo è bellissimo Purtroppo ce l'ho In questo Adesivo qui Di merda Perché Una ristampa Però è troppo bello Perché Praticamente Allora Non so se sapete Ma i dorso Non è ne che hanno fatto 400 dischi Perché Il buon Jim Morrison È morto a 27 anni Quindi Praticamente Abbiamo fatto Tre dischi E tutti e tre Sono delle hit Dall'inizio Alla fine Che Nirvana Spostati Leggiamo Leggiamo le tracce Allora Break control Traccia 1 Soul kitchen Queste le saltiamo Alabama song E light my fire Quinta traccia Poi sull'altro lato The end Quindi se non ce l'avete Siete stronzi Questo Vabbè Ce l'hanno tutti Poi è bellissima La scritta Dorsi Abbiamo qualcun altro Di straniero Ancora qui Ah si si Eccolo qua Abbiamo ancora Qualcun altro Di straniero Che non vi ho fatto Vedere l'altra volta Ed è ovviamente Tracy Chapman Questo disco è Famoso Soprattutto per Fast Car Ovviamente Ma È incredibilmente Bello tutto Dall'inizio alla fine Da talking about Revolution Fino a For you Pazzesco Foto per Instagram Adesso Adesso Mi sono rimaste Solo cose Cose italiane Sì Allora italiane D'altro lato Avevo fatto vedere Questo Delle orme Ok Vediamo tutti Quegli altri Delle orme Così consigli per gli acquisti Siccome ce li ho Quasi tutti qua Adesso non ce li ho Proprio tutti Tutti ma Non è importante Allora Smog Magica Edizione Philips Bellissima copertina Disco a me A parte Amico di Ieri Che è un successo incredibile Però Si può Si può soprassedere Mentre Mentre Qua Ce l'abbiamo Tutte l'edizione completa Non ho il cd di qui Ma non è importante Altro caposaldo Del prog rock L'indy questo disco Comunque sia Ovviamente questo bellissimo Dall'inizio alla fine Questo è pauroso Soprattutto Evasione totale Sguardo verso il cielo Cemento armato College E tutte le altre Quindi è un capolavoro Dall'inizio alla fine Questo è imprescindibile Dovete avercelo insieme A Fiorona Sorona Secondo me sono i due migliori Poi un disco invece Sempre delle orme Un po' misconosciuto Nel senso che non È un po' schifato Ma secondo me È un capolavoro È Questo Che è Florian Che abbiamo anche In cassetta Questo è particolare Perché è registrato Diciamo unplugged Il Florian Avete presente il locale Che c'è a Venezia Dove fanno pagare il caffè 14.000 euro Qua Ok Questo locale qui Ed è molto 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 interessante Registrato a Mestre Nel 79 Non è Prog È È un po' pretenzioso Effettivamente Ma secondo me È molto bello E purtroppo è abbastanza Miscagato Poi ultimo Che ho qua Ma non è l'unico Però tra quelli Degni di nota Uomo di pezza Che è una copertina Bellissima Purtroppo non ce l'ho In Non ce l'ho in vinile Però lo vorrei Questo secondo me È il terzo disco Più importante Delle orne Comprate Comprate Poi 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 Copertina inquietante Per Riccardo Cocciante Un concerto per Margherita Allora Questo è bellissimo Bellissimo Soprattutto Per Cioè non soprattutto Anche Per gli arrangiamenti Di Vangelis O Vangelis Non so se avete presente Quello di Momenti di Gloria Papapapapapa E I'm La sigla di Barilla La pubblicità Barilla Oltre ad essere stato Negli Afro Die Child Non ho niente degli Afro Die Child Porca trai Questo vabbè Ovviamente a parte Margherita La canzone Margherita Quando me ne andrò da qui Ma è proprio bello L'arrangiamento di Vangelis Se lo ascoltate Fate caso a quello Poi Ho Altro capolavoro Italiano Questo Non così comune Questo disco In verità Allora New Trolls Senza orario Senza bandiera E sotto Se vedete Di chi sono Da chi è stato prodotto Vabbè Reverberi Fabrizio Di Andrè Che ha scritto O ha aiutato a scrivere I testi Questo è Un capolavoro Dall'inizio alla fine Pazzesco Un misto tra Jimi Hendrix Perché nei New Trolls C'era sempre Con la chitarra Un po' Jimi Hendrixiana Di Andrè Ovviamente Un po' prog Un po' Pretenzioso Un po' Molto barocco Questo è incredibile La copertina Mi è inquietato Mi è inquietato per anni Oh Allora Siamo arrivati alla fine Ne mancano Due Uno È il mio disco Preferito di sempre Cioè quello che secondo me Proprio come composizione Dall'inizio alla fine Come numero di It È il migliore mai fatto E l'altro invece È una cosa un po' particolare Che forse non conoscete Comunque sì Ovviamente Questo Il mio disco preferito italiano Avete visto l'altra volta Quello invece Non italiano Volce del padrone Franco Battiato Emi Questo è pauroso Dall'inizio alla fine Cioè Poi si vede il maestro qui In questa posa bellissima E inquietante Che sembra Un disco degli EFL 65 La provo Invece Invece Questo disco Forse non tutti voi Lo conoscono Oh Torniamo un po' Sul heavy meta Vanadium Born to fight E voi direte Chi cazzo sono i Vanadium I Vanadium Dov'è che Ecco qua I Vanadium Sono il gruppo Degli anni 80 Con Vedete cosa c'è scritto Chi è questo tizio Qui Ebbene sì È proprio Pino Scotto E non gli dareste Un euro giusto A Pino Scotto Giustamente Adesso Ora come ora no Ma questo disco È davvero una figata È proprio heavy metal Anni 80 Sparatissimo Ed è molto molto interessante Contiene una Cover Dei purple Contiene un sacco di tracce Loro interessanti Recuperatelo Immediatamente Se vi piace Le heavy metal Anni 80 Se vi piacciono Le Iron Maiden I Metallica Degli origini Insomma Quella roba lì Ok Gli Scorpions No È più pesante Ed è davvero ottimo La voce di Pino Scotto Non era male Tutte le canzoni Sono in inglese Abbiamo finito Sì Allora per ora Per un po' Non avrò altri dischi Da farvi vedere Mi sa Niente Vi saluto E vi ringrazio Forza Roma Basso Lazio E vi ringrazio Per un po' Non avrò altri dischi Non avrò altri dischi